Lezione 6 Trattamento Cosa funziona per aiutare le persone a interrompere o ridurre l'assunzione di alcol? Al momento non esiste una cura nota per l'alcolismo. Sia i trattamenti psicologici che quelli farmacologici vengono utilizzati nel trattamento dell'eccessiva assunzione di alcol, buono pane e petrakis, 2005. La pletora di diversi tipi di trattamento di per sé può indicare che non ci sono risultati garantiti e la condizione rimane difficile da risolvere. In tutta l'Inghilterra un esercizio di mappatura, Alcohol Concern, 2002, ha stimato che esistessero oltre 300 servizi di consulenza e consulenza, 100 programmi giornalieri e quasi 200 programmi residenziali specificamente stabiliti per trattare la dipendenza da alcol. La gamma di trattamenti disponibili in questi centri è molto varia e può essere sconcertante per le persone che cercano aiuto. Molte delle forme di sostegno non correlate alla droga non sono state sottoposte a sperimentazioni cliniche che sarebbero in grado di dimostrare se sono efficaci o meno. Questo non vuol dire che le terapie e gli interventi di supporto non funzionino, ma solo che è difficile dimostrare la loro efficacia in modo oggettivo scientifico. Una percentuale di persone con dipendenza da alcol è in grado di smettere di consumare alcol senza l'assistenza di agenzie esterne o di tipi di aiuto formali, Klingeman e Sobel, 2001. Per Rakel lo shock di rendersi conto che stava danneggiando la propria salute potrebbe essere sufficiente per decidere di apportare questo importante cambiamento al suo comportamento, Vignetta 2. Vignetta 2. Rakel ha bisogno di cure. Quando le è stata data per la prima volta la diagnosi di fegato grasso alcolico, Rakel era determinata a scoprire il più possibile su questa condizione. Dopo diverse sessioni su internet e dopo un ulteriore consulto con il proprio medico è stata in grado di scoprire le seguenti informazioni. Il fegato grasso si verifica sempre se il consumo di alcol supera i 100 ml di etanolo ogni giorno, poco più di una bottiglia di vino. Rakel stava bevendo tre quarti di una bottiglia di alcolici, circa il doppio di questa quantità. La condizione è generalmente reversibile se non si consuma più alcol. La condizione può progredire in cirrosi e possibilmente in sufficienza epatica se la persona continua a bere alcolici, teli etal, 1995. Per molte persone, anzi per la stessa Rakel, l'uso di alcol è saldamente radicato in strutture sociali che sono difficili da rimuovere. Se Rakel smettesse di bere, come alleviare lo stress e le tensioni della sua vita? Come potrebbe rimanere al centro della sua organizzazione quando così tanti affari sono condotti dai suoi colleghi al bar? Se Rakel non smette di bere, cosa potrebbe succedere? Studi di ricerca che hanno confrontato gruppi di bevitori problematici con quelli in trattamento hanno scoperto che tra le persone che non ricevono forme di trattamento riconosciute una percentuale modifica le proprie abitudini di consumo. Un importante studio negli Stati Uniti, Weisner et al, 2003, ha rilevato che il 12% dei bevitori problematici ha seguito come un gruppo di controllo e che non aveva ricevuto consulenza formale o aiuto psicologico. Ha riferito di essere ancora astenuto dall'alcol dopo 12 mesi. Ma questo è molto inferiore al 57% in trattamento formale che non utilizzava alcol dopo 12 mesi. Se smettere di bere alcolici è difficile a breve termine, diventa ancora più difficile per le persone rimanere astinenti a lungo termine. Molte persone con dipendenza dall'alcol sembrano attraversare diversi cicli che includono periodi di consumo controllato o astinenza, seguiti da problemi di alcolismo che portano a ulteriori episodi di trattamento e così via per tutta la vita. La ricerca in Germania, Manetal, 2005, ha seguito 96 bevitori problematici per 16 anni e ha confermato che le persone entrano ed escono dal bere problematico per molti anni. Infatti solo il 22% ha riferito di astinenza per tutti i 16 anni. I risultati della ricerca raccolti da un gran numero di studi hanno anche indicato quali persone possono essere previste per avere i migliori risultati da vari tipi di trattamento per il loro problema con l'alcol. Weissner et al. 2003 Le donne sembrano fare meglio degli uomini, anche se spesso entrano in cura più tardi degli uomini e possono avere più problemi di salute mentale associati. Sebbene alcuni giovani maturino a causa del loro comportamento problematico nel bere, in generale i giovanissimi che iniziano il trattamento hanno un esito peggiore rispetto alle persone più mature. Uno stato socio-economico inferiore è associato a un minor miglioramento nel tempo. Peggio è il problema del bere all'inizio del trattamento e la presenza di problemi psichiatrici più scarse sono le prospettive per il successo del trattamento. Le reti e il sostegno familiare possono essere importanti i predittori dell'esito del trattamento. Se anche la famiglia e gli amici della persona sono coinvolti in comportamenti che creano dipendenza, le possibilità di successo del trattamento sono più scarse. Tuttavia, la presenza di un ambiente familiare favorevole è associata a maggiori possibilità di successo del trattamento, copello, et al. 2005 6.2 Trattamento dei disturbi epatici alcol correlati Sebbene siano stati compiuti notevoli progressi nel trattamento di molte altre condizioni mediche croniche, sono stati compiuti scarsi progressi nel trattamento della cirrosi. Inoltre 8.000 persone ricoverate in ospedali nella regione di Oxford nel Regno Unito con cirrosi epatica durante un periodo di osservazione di 30 anni, il 34% era morto un anno dopo il loro ricovero e questo tasso di mortalità è rimasto più o meno costante. Roberts et al. 2005 La visione ampiamente pessimistica del fallimento del trattamento del danno epatico può cambiare in quanto vi sono prove, Iredale, 2003, che i processi sottostanti, come l'infiammazione, stanno diventando sempre più compresi e potrebbero essere potenzialmente reversibili in futuro. Tuttavia, è chiaro che al momento non esiste alcun farmaco veramente efficace per invertire i danni prodotti dall'alcol e la migliore speranza di salute a lungo termine per Raka e altri bevitori problematici rimane l'astinenza dal bere alcolici. Trapianto di fegato Se Raka è il continuo a bere alcol, l'infiltrazione di grasso nel suo fegato può progredire in cirrosi, teli, mille e 999. Quando il danno epatico cirrotico diventa grave, potrebbe essere possibile il trapianto di fegato. A causa della limitata disponibilità di fegati per il trapianto, alcune unità specialistiche hanno la regola che le persone dovrebbero dimostrare la loro determinazione e non bere alcolici per un determinato periodo di tempo, forse sei mesi, prima che il trapianto venga considerato. Questo tipo di regola, con le sue sfumature piuttosto moralistiche, è stato contestato da Webb e Neuberger, 2004. Altre persone potrebbero non essere considerate idonee al trapianto di fegato perché hanno altri problemi fisici o psicologici, Walsh e Alexander, 2000. Il trapianto è un'idea semplice, ma sostituire un organo malato con uno perfettamente funzionante da un donatore può essere complicato nella pratica. Come puoi immaginare, ci sono molti dilemmi etici coinvolti nel prelievo di organi da persone che battono il cuore ma sono cerebralmente morte. Molti dei potenziali problemi medici sorgono dopo il trapianto perché il corpo della persona ospitante considererà il nuovo organo come non sé e tenterà di respingerlo. Sebbene il rigetto possa essere controllato da farmaci immunosoppressori, questi hanno spesso effetti collaterali. Nonostante queste difficoltà, molte persone con un trapianto di fegato conducono una vita attiva e del tutto normale, Prasad e Lodge, 2001. Se il danno epatico di Rakel diventa così grave che deve sottoporsi a un trapianto di fegato, le prospettive sono sorprendentemente buone. Circa il 75% delle persone con un nuovo fegato sarà vivo 5 anni dopo l'intervento di trapianto, iridale, 2003, e il progresso con nuove tecniche chirurgiche e farmaci immunosoppressori continuano a migliorare le possibilità di sopravvivenza. Tuttavia, la ricerca ha dimostrato che tra l'8% e il 22% delle persone beve alcolici entro sei mesi dal trapianto e complessivamente tra il 10% e il 30%, ricaduta a tempo debito, Webb e Neuberger, 2004. Speriamo che Rakel sia in grado di ottenere le giuste informazioni, cure e supporto per aiutarla a vivere una vita lunga e felice. Conclusione. I principali effetti acuti dell'etanolo sono sul sistema nervoso, provocando cambiamenti caratteristici nel comportamento e nel giudizio. Ci sono problemi particolari per quanto riguarda la guida, con diversi paesi che stabiliscono vari limiti sicuri per la concentrazione di etanolo nel sangue. Concentrazioni molto elevate di etanolo nel sangue possono essere fatali. I postumi di una sbornia sono spiacevoli e sono poco conosciuti. Sono stati proposti vari meccanismi, inclusi gli effetti diretti dell'etanolo sugli organi, l'astinenza da etanolo, l'accumulo di acetaldeide e gli effetti di altre sostanze chimiche presenti nelle bevande alcoliche. Molti trattamenti sono di uso comune, ma ci sono poche prove che un intervento particolare sia benefico. L'epatopatia alcolica deriva dal consumo eccessivo di alcol e comprende il fegato grasso, che è lo stadio reversibile iniziale, e l'epatite, e la cirrosi più gravi indotte dall'alcol. L'eccessivo consumo di alcol può anche portare a danni al sistema nervoso con conseguente demenza e restringimento del tessuto del sistema nervoso centrale. La sindrome alcolica fetale può derivare dal consumo materno di alcol durante la gravidanza. Comporta l'interruzione dello sviluppo fetale che causa anomalie del sistema nervoso centrale, ritardo della crescita e caratteristiche facciali caratteristiche. Il trattamento dei disturbi del fegato è difficile se non per l'astinenza. Tutte le risposte alle domanade e altro materiale è disponibile nel corso presente sul sito. Slide PDF Slide PowerPoint Audio lezione e molto altro Grazie a tutti